Qual è il punto di arrivo finale di questi atti di programmazione e di organizzazione è molto dubbioso e molto problematico. Il giudizio che diamo come sindacati pensionati di CGL e Cislewil è un giudizio molto preoccupato e critico perché peraltro non siamo stati in grado di discutere con il Direttore Generale a sufficienza rispetto all'importanza di questo documento di organizzazione generale. Sicuramente ci sono contenuti di profondo cambiamento rispetto all'organizzazione attuale della sanità a Trieste e io aggiungo anche a Gorizia per alcuni aspetti. Stiamo parlando di un atto non ordinario nel senso che è l'atto che organizza la nuova azienda unica a Trieste-Gorizia. Sottolineiamo che noi nel dicembre 2019 abbiamo fatto un incontro con il Direttore Poggiana in cui lui si era impegnato a discutere con noi della nuova organizzazione aziendale. Questo non è successo. Noi come tutti i soggetti sociali e istituzionali siamo di fronte a un dato di fatto che prevede drastici cambiamenti nell'organizzazione aziendale sanitaria e ci sono molte contraddizioni che a me pare sono anche sottolineate da soggetti responsabili della dimensione ospedaliera che sono contenuti in quest'atto. Per i cittadini è chiaro che cambiare l'organizzazione della sanità territoriale mi riferisco ai distretti sanitari che vengono drasticamente modificati rispetto all'attuale situazione non solo come numero ma proprio come qualità e quantità di prestazioni che erano assegnate appunto in capo ai distretti sanitari e credo che queste sono considerazioni di grande preoccupazione che ci spingono oggi a sottolineare alcuni contenuti e anche a lanciare alla società civile organizzata del territorio di Trieste in primis ma poi lo faremo anche a Gorizia un ragionamento di difesa della sanità pubblica perché intravediamo rischi profondi di caduta già anticipati da alcuni segnali concreti in questi giorni. C'è un problema serio di gestione e organizzazione aziendale noi riteniamo inaccettabile la sospensione delle attività fondamentali insomma di chirurgia crediamo ci sia un problema serio di governo pensiamo che come abbiamo già detto al direttore generale Poggiana in alcuni incontri pensiamo che sia grave che non si sia utilizzato questo anno e mezzo per predisporre una nuova organizzazione sul campo ci sono grandi limiti nel gestire le dinamiche della pandemia basti ricordare la situazione del Dipartimento di Prevenzione il tracciamento, tutte le contraddizioni che anche altri soggetti nei giorni scorsi penso i medici di base hanno denunciato per quello che sta succedendo c'è una situazione molto seria e quindi le cose che lei dice sono assolutamente condivisibili ci sono profonde contraddizioni organizzative il problema è che non si riesce a discutere sostanzialmente con questa direzione generale